Un cordiale saluto da Andrea Biagioni di Florence Multimedia per gli aggiornamenti sulla viabilità in Toscana. Partiamo ancora dalla 1 dove a causa di un veicolo in avaria ormai rimosso si registrano ancora 5 km di coda tra Calenzano VI Fiorentino e il Bivio con la variante del Valico in direzione Bologna. Code a tratti per traffico intenso invece tra Aglio e Calenzano VI Fiorentino verso Roma. In Fipili a causa di lavori ancora 3 km di coda tra Scandicci e Ginestra Fiorentina in direzione Livorno, 2 km invece tra Ginestra Fiorentina e la Strassigna verso Firenze. Un raccordo sia una Firenze e code a causa di un incidente tra San Casciano e l'allacciamento con la 1 in direzione Firenze. Cantieri di Firenze domani 17 giugno per un carico scarico in orario 9.19 rimarrà chiusa via Palmieri tra via dei Pandolfini e via Ghibellina. E per il momento è tutto, muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!